Perché il bradipo, che dal greco significa piede lento, ha quelle particolari caratteristiche di movimento? Perché lo spirito, l'anima, l'essenza chiamata bradipo, si incarna nella forma fisica che lo può meglio ricevere per favorire l'ulteriore evoluzione di quello spirito nel mondo animale. Perché il bradipo, che dal greco significa piede lento, ha quelle particolari caratteristiche di movimento? Perché lo spirito, l'anima, l'essenza chiamata bradipo, si incarna nella forma fisica che lo può meglio ricevere per favorire l'ulteriore evoluzione di quello spirito nel mondo animale. Il bradipo, che dal greco significa piede lento, ha quelle particolari caratteristiche di movimento? Il bradipo, che dal greco significa piede lento, ha quelle particolari caratteristiche di movimento? Il bradipo, che dal greco significa piede lento, ha quelle particolari caratteristiche di movimento?